quella cucina insieme ad Andrea a Palermo ci sono gli africani non ho cambiato lavoro non sono andato all'ufficio immigrazione curiosi e allora a un in cucina e allora ci sono affare l'africano a Palermo appunto, ora ve lo spiego come dicevo non ha a che fare né con l'immigrazione né con l'ufficio straniero né tantomeno con un popolo fantastico come quell'africano è un tipico dolce della pasticceria palermitana magari i giovanissimi proprio non lo conoscono perché è un dolce come dire un po' vintage che tende anch'esso un po' come la Maria Stuarda la videoricetta che ho fatto qualche giorno fa a scomparire dalle vetrine delle nostre rinomate pasticcerie cittadine questo è un dolce parecchio ricco quindi secondo me tendenzialmente tende a non essere più gradito perché il palato ormai oggigiorno cerca in tutti i modi di affinare le proprie papille degustative e cerca di non caricare in maniera eccessiva di zuccheri e grassi anche i dolci e questo come dicevo è un dolce molto ricco è ricco di cioccolato è ricco di frutta secca di zucchero è un dolce impegnativo oserei dire pesante io oggi tenderò leggermente a d'alleggerire un attimino quello che è fondamentalmente il ripieno di questo straordinario dolce e lo presenterò a voi perché credo che ne valga la pena e merita sicuramente un posto nell'Olimpo della pasticceria palermitana adesso andiamo ad eseguire tecnicamente quello che è la ricetta una ricetta parecchio semplice troverete tutti gli ingredienti scritti in descrizione con le grammature e quant'altro e quindi adesso non ci resta altro che cominciare a fare il ripieno mettiamo il latte in un tegamino e portiamolo in ebollizione in un'altra ciotola mentre il latte va in ebollizione uniamo le polveri quindi il cacao l'amido di mais e lo zucchero mischiamo tutti e tre gli ingredienti per bene e aspettiamo che il latte bolle nel frattempo che il latte bolle vi dico di che si tratta perché sicuramente qualche pasticcere palermitano già strisce il naso allora come vi ho detto nell'introduzione di questa ricetta io sto cercando di alleggerirlo un pochino non tantissimo perché sennò vado a snaturare quello che è l'essenza di questo dolce lo vado ad alleggerire partendo dalla farcia la farcia di questo dolce solitamente nasce con una crema che è una crema che è una crema che è una crema fatta con base di cioccolato fondente e in par misura di panna lo si posiziona nella panna la si unisce al cioccolato e poi si fa raffreddare si ottiene questa crema che è una crema panna con il latte uso un addensante che è l'amido ho diminuito un po' la percentuale di zuccheri e il ripieno non è soltanto cioccolato fondente al 70-80% ma l'ho miscelato con una piccola percentuale di cioccolato al latte così da rendere quanto meno al gusto un po' meno aggressivo questa appunto farcitura per cui il latte credo che già stia bollendo e lo andiamo ad unire direttamente alle polveri e poi trasferiamo tutto di nuovo sul fuoco e cominciamo a versare una parte sopra le nostre polveri e misceliamo il tutto trasferiamo di nuovo tutto sul fuoco misceliamo per bene e accendiamo fuoco medio dopo un paio di minuti possiamo inserire il cioccolato cubettato adesso dobbiamo fare addensare questa crema quindi fuoco sempre basso e mescolate in continuazione per evitare che si attacchi al fondo benissimo ottenuta questa consistenza di qua quindi parecchio densa togliamo dal fuoco e la facciamo raffreddare a temperatura ambiente ok facciamo raffreddare la nostra crema al cioccolato il consiglio che io vi do è possibilmente di prepararla il giorno prima poi una volta arrivata a temperatura ambiente la mettete in frigorifero la fate stare almeno tutta la notte così l'indomani prenderà quella bella corposità che a noi serve per poi poter andare a formare questo straordinario dolce una volta che abbiamo ottenuto appunto questa crema che già si è raffreddata quindi si è solidificata per bene facciamo mettiamo a bagnomaria del cioccolato extra fondente almeno all'80% e un po' di cioccolato bianco facciamoli sciogliere delicatamente a bagnomaria e continuiamo così la nostra ricetta e ci siamo allora la nostra crema si sta raffreddando andiamo a prendere il rotolo che abbiamo ottenuto come vedete molto elastico veramente bello bello profumato fantastico un coppapasta io ho scelto la misura è un coppapasta quadrato 8 cm 3 x 8 però nulla vieta se vuole fare un po' più grande o un po' più piccolo l'importante è che sia comunque quadrato e andiamo a ricavare dei piccoli appunto quadrati e li teniamo da parte questa sarà la nostra base per l'africano immergiamolo nel cioccolato che abbiamo fatto fondere il cioccolato fondente sciolto ricopriamolo interamente in questo modo e trasferiamolo per farlo asciugare su una graticola una volta solidificato il nostro africano lo andremo ad immergere nel cioccolato bianco fuso e lo andiamo a fare in entrambi i lati le due estremità riponiamo nuovamente in frigorifero e prima che si solidifichi del tutto il cioccolato bianco andiamo ad intingere in una bella granella di pistacchi riponiamo in frigorifero nuovamente e facciamo indurire il tutto ed eccoli qua i nostri belli africani disponeteli in un piatto e su un po' di cioccolato bianco giusto per decorare ed eccoli qua belli e che pronti passiamo alla prova del taglio come saranno venuti mamma che sono belli e che fare come al solito mei sacrificati li dovrò assaggiare per voi metano Oh, dì!